Cosa succederà nelle puntate di Terra Amara dal 20 al 25 giugno 2023? Prima di scoprire assieme le prossime puntate, vi ricordiamo che sabato 24 giugno la SOP non andrà in onda. E ora vediamo cosa ci aspetta nei prossimi episodi. Mushgan fa una confessione a Beice, desidera la morte di Zuleya, ritenendola il motivo di tutti i loro guai. Quindi, la zia senza che Mushgan ne sia al corrente si traveste da infermiera e tenta di togliere la vita a Zuleya. Tuttavia, la ragazza si sveglia in tempo per salvarsi. Beice si trova nella condizione di fuggire, ma resta graffiata in volto. Quando Zuleya riporta l'accaduto ai dottori e ai ulide, tutti credono che abbia avuto un'allucinazione determinata dalle medicine. Quando viene chiarita la dinamica dell'avvelenamento, decadono i sospetti sui Demir. La piccola Uzum, intanto, è felice perché potrà andare a scuola. Al rientro a casa dopo il tentato omicidio, a Mushgan non sfugge il fatto che Beice abbia un graffio sul viso. Il Maas capisce di aver sbagliato ad accusare Demir. Fekeli gli dà dei consigli per controllare la rabbia. Zuleya viene finalmente dimessa dall'ospedale e sta per tornare in carcere, quando incontra il Maas. Per tranquillizzarlo, la giovane gli dice che non ha subito nessun'aggressione, ha solo avuto un incubo. Nel frattempo, Mushgan, vedendo il marito si innervosisce e si sfoga con Sabahattin. In un secondo momento, la dottoressa si reca in prigione, dove l'acceso confronto con la Altun le instillerà un terribile dubbio. Mushgan accusa Beice di aver tentato di uccidere Zuleya, come quest'ultima ha denunciato durante il ricovero in ospedale in cui era giunta per un'intossicazione. La zia, indignata, minaccia la nipote di andare via. Intanto, alla tenuta la piccola Uzum si prepara con felicità a vivere il suo primo giorno di scuola. Saniai e Gaffur non potrebbero essere più orgogliosi. Demir sta per vendere le azioni della raffineria a Vedat, però quest'ultimo resta vittima in un incidente. In realtà, la morte dell'uomo fa parte del piano dei loschi individui di Ankara per indurre l'imprenditore a vendere a loro tramite un intermediario sconosciuto. Fekeli allora chiede ad Ankar di dissuadere lo Yamanei. Proprio al momento della firma, lei lo ferma. Nel frattempo, Zuleya, ancora in cella, si dispera perché non può né vedere né avere notizie dei suoi figlioletti. Ankar convince Demir a non vedere la raffineria ai misteriosi uomini di Ankara, e anche a ritirare le accuse contro Zuleya. In questo modo, quest'ultima potrà finalmente tornare alla villa e ricongiungersi ai suoi bambini. Una volta scarcerata e rincassata, la Althun viene però costretta da Demir a fare la domestica. Intanto, alla notizia del rilascio dell'ex Sarta, Beice inizia a dire a Mushgan che Zuleya rappresenta un problema per lei e per la sua famiglia con il Maas. L'Ekimoglu, rendendosi conto che le continue insinuazioni della zia le stanno facendo perdere il lume della ragione, le chiede di tornare ad Istanbul. Per non perdere le prossime anticipazioni, iscriviti al canale.